L'Upa Roma veniva da 6-7 risultati utili come noi, era un avversario difficile da affrontare e non ce l'aspettavamo che aveva questa grinda e questa cattiveria e forse quella che è mancata a noi per vincere la partita. Speriamo che il mister mi butta dentro, però lui fa le sue scelte e noi stiamo sempre a disposizione e pronti. Il mister fa le sue scelte, io quel ruolo l'ho fatto anche altre volte e se il mister mi metterà in quella posizione cercherò di dare il meglio e di fare bene. Do un sì, non mi aspettavo di giocare tutte queste partite, però sono contento e spero di queste partite che avvengono di far meglio e di trovare il primo gol stagionale.